Buonasera, siete collegati con lo studio di Pianeta Oggi TV Online All News, dunque un aggiornamento delle notizie. Questa mattina, a pochi minuti dopo le ore 4, è stata avvertita una scossa di terremoto in Alto Veneto, precisamente nelle zone di Vittorio Veneto, Montebelluna, Belluno, Conegliano, fino anche a Ponte di Piave. Manitudo registrato 3.6 della scala Richter, con epicentro nella zona di Colbertaldo, dove il sisma è stato intensamente avvertito a causa dell'ipocentro molto superficiale. In questa zona trasmette anche Eden TV 86, l'emittente televisiva interregionale, che ospita anche il nostro settimanale Pianeta Oggi Reporter. Ci colleghiamo subito con il loro telegiornale delle ore 19, per maggiori informazioni. Vediamo. Buonasera, ben trovati al nostro Tg che si apre ovviamente con la notte di paura vissuta fra quartier del Piave e Vallata, dove poco dopo le 4 la popolazione è stata svegliata da una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 della scala Richter. L'epicentro è stato individuato fra Moriago e Vidora, tutto nel servizio di Daniele Antonioni. Dopo i boati di ieri provocati da un caccia americano in esercitazione sui cieli della marca, questa mattina poco prima dell'alba è stata la terra a tremare. Erano le 4.02 quando una scossa di 3,5 gradi Richter, registrata ad una profondità di 2 chilometri, ha svegliato i residenti della pedemontana trevigiana. Un terremoto che secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha avuto il suo epicentro fra i comuni di Vidora e Moriago. Si parla in particolare della frazione di Mosnigo di Moriago. Verso le 8 abbiamo ricevuto il messaggio che ha confermato l'entità e la scossa e l'epicentro che dovrebbe essere tra i comuni di Moriago e di Vidora. La scossa è stata preceduta e seguita da altre piccole vibrazioni. Nessun danno è stato riscontrato, ci ha assicurato il sindaco Tonello. Nessuna problematica quindi l'entità della scossa è stata tale, probabilmente la tipologia di scossa che non ha comportato alcun fenomeno di pericolo oppure di caduta di sassi o che sia. Molti, davvero molti, sono stati coloro che sono scesi in strada. La scossa si è sentita bene a Cornuda, Crocetta, Falzeca, Irano, Possagno, Montebelluna, Miane, Treviso e addirittura Ponte di Piave. Mi sono capotata dal letto sul serio perché ho preso tanta di quella paura, però mio marito che dormiva in fianco per esempio lui non l'ha sentito. Io però mi sono proprio svegliata, svegliata, sì sì. Guarda, io ho una amica che stamattina l'ho vista e mi ha detto no, il mio comodino tremava e il telefono, il cellulare in cima vibrava tutto. Ho preso paura, sono alzata e sono andata a guardare in giro cosa è successo. Ma un bel boato e poi uno scossone, il letto matrimoniale e poi basta, è finito, non ho sentito più niente. A Vittorio niente? Niente. Io abito a Cornuda e ho sentito uno scricchiolio come dell'armadio. Un casino numero uno, un rumore numero uno e dopo patapum patapim patapum e insomma ho già una paura del demonio. Secondo gli esperti si tratta della scossa più forte registrata negli ultimi 30 anni. Vidore e Moriago si ricordano ancora l'ultimo terremoto degno di nota, il 24 giugno del 2010, 2.9 della scala Richter. Una terra questa, ha ricordato oggi il sindaco Tonello, classificata zona sismica 2 con pericolosità media. Siamo inseriti in una fascia dove il rischio c'è. Io lo ricordo un terremoto di questa entità circa 4-5 anni fa, appena ero diventato sindaco e questo a memoria è il secondo che ci capita. Ascoltiamo ora il comandante dei vigili del fuoco di Treviso. Sì, è stato avvertito stanotte attorno alle 4 di questa mattina una scossa di terremoto nella zona della Pedemontana. È stata ben avvertita anche qui a Treviso. Abbiamo ricevuto, la nostra sala operativa ha ricevuto una serie di telefonate di persone che sostanzialmente chiedevano cosa stesse accadendo, ma al momento non abbiamo ricevuto, non abbiamo segnalazioni di danni. La zona è una zona sismica e la scossa che c'è stata non ha provocato danni. Stacchiamo il collegamento con il telegiornale di Eden TV 86. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questo aggiornamento delle notizie. Da Pianetta Oggi TV è tutto. Buon proseguimento con la programmazione della rete.